Lenovo ha lanciato sul mercato un nuovo 2 in 1 da 10 pollici della serie Mix, è il 310 ed è un 2 in 1 appunto con schermo da 10 pollici Full HD e parte tastiera che è secondo me la parte più interessante del duo. Un 10 pollici appunto Full HD gestito da un Atom Cherry Trail, il duo insieme nel complesso fa 580 grammi ma la parte tablet è quella più leggera, adesso ve la faccio vedere un attimo così, di lato le porte riguardano la solita dotazione micro HDMI, micro USB, c'è il bilanciare del volume, c'è il lettore di schede, eccolo qua, micro SD ma la parte tablet dicevo anche con queste cornici un po' grandi insomma non è poi quella più interessante. Quello che mi interessa è farvi vedere, farvi notare la tastiera, la tastiera è spessa, è la parte principale dei 580 grammi, è una tastiera che ricorda quella dell'Asus D100C, non so se ricordate poi mai arrivato in Italia perché le finiture sono quelle, sono cromate in quel modo e il touchpad anche ha quella stessa dimensione, è molto stabile, molto solita perché è spessa, perché appunto è pesante, da un lato ha una USB a grandezza standard, dall'altra c'è un'altra USB qui rovinata, è danneggiata, questo sample che stiamo provando è abbastanza messo male da questo punto di vista, però comunque resta abbastanza solido, abbastanza stabile, è tutto fabbricato in plastica, però all'interno c'è una placca metallica diciamo che lo rende più stabile e dovrebbe garantire anche una maggiore longevità. La cerniera, una volta che l'attacco a questo piccolo netbook, chiamiamolo così, permette di angolarlo abbastanza, guardate, di alzarlo anche, quindi inclinare la tastiera ed avere una buona presa. Una buona presa, all'interno c'è un Atom, altra particolarità, lo Z8350, un X5 leggera evoluzione dell'8300 che abbiamo provato poco tempo fa e che è disponibile anche nei due in uno di Asus, di Asher, Asher e alcuni. Questo permette di avere una frequenza un pochetto più alta, qua è venduto con 4GB di RAM e 64GB di memoria MMC, ci sono anche configurazioni con 128GB, quindi uno step in più rispetto ai modelli che conosciamo. È un Full HD come vi ho detto, è molto reattivo, lo schermo forse è un po' troppo riflettente, ma adesso non è al 100%, quando l'abbiamo prima messo al massimo era comunque ben visibile. Una macchina carina, potrebbe essere veramente la sorpresa di questa prima parte, prima metà del 2016 anche nel prezzo. Poi guardate, a due fotocamere non è semplice trovare una 10 anche posteriore su un tablet come questo. Prezzo, dicevo, soltanto 229 dollari negli Stati Uniti, in Italia è stato annunciato, proprio oggi, tra pochi minuti fa abbiamo messo online la news su hdblog.it, a 269€ che è un buon prezzo considerando che appunto il display con l'HD, i 4GB di RAM, questa tastiera che vi ripeto mi ha fatto una buonissima impressione, e poi sì, anche lo stesso fatto che sia una tastiera Lenovo, quindi con i tasti più comodi in media degli altri, su un 10 pollici è fondamentale avere dei tasti comodi perché altrimenti si finisce per non usarli se sono troppo sacrificati. Sarà in vendita però da giugno, quindi ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare prima di vederlo sul mercato. Per maggiori informazioni vi rimando all'articolo che abbiamo appena pubblicato su hdblog.it, qua sotto in descrizione vi lascio il link per andarci direttamente.